La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca, senza più l'obbligo di mascherine all'aperto, se c'è la distanza. Vanno comunque portate con sé. Una rivoluzione rispetto agli ultimi sette mesi, con l'incognita e la variante delta, quadruplicati casi a giugno rispetto a maggio, che potrebbe imporre nuove zone rosse limitate. Le riaperture saranno completate entro il 10 luglio, dalle discoteche sotto le stelle. In Campania, tuttavia, resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. Lo prevede un'ordinanza firmata al governatore De Luca, che spiega che si tratta del 95% dei casi. L'uso delle mascherine resta obbligatorio sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ad esempio centri urbani, nelle piazze, sui lungomari, nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, o nei trasporti pubblici all'aperto, quali traghetti, battelli e navi. Se prosegue così la vaccinazione a Napoli, prosegue De Luca, andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi dopo settembre. Nel territorio dell'Asla Napoli 1, tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose, o anche la prima, si sono presentati un numero limitatissimo. Ad oggi, per quanto riguarda l'Asla Napoli 1, su 839.000 cittadini residenti e vaccinabili, vi sono 317.000 mancate adesioni. Spiega. E' un dato non sostenibile. Continua la gestione scorretta della distribuzione dei vaccini. A Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, vanno 240.000 dosi in più rispetto a noi. Mi sono anche stancato, denuncia De Luca, di sottolineare la scorrettezza del commissario e del Ministero della Salute. E' una vergogna, sono irresponsabili. In Campania è anche vietata la vendita da sporto di bevande alcoliche dopo le 22.00. Lo prevede un'ordinanza del Governatore, illustrata dallo stesso Presidente nella sua diretta social. Nella stessa fascia oraria, barre ed esercizi di ristorazione potranno far consumare alcol solo ai tavoli o al banco. Sempre nell'ottica della prevenzione anti-Covid, è vietato, dalle 22 alle 6, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti, gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.